Nelle grotte di Passena, recenti scavi hanno riportato alla luce dei reperti archeologici importantissimi perché sono la testimonianza di insediamenti umani nella zona delle grotte già 7000 anni fa. Abbiamo fatto queste interviste. Per quest'anno abbiamo ottenuto con la collaborazione dell'Università di Torregate della Sovrintendenza dei Beni Archeologici della Regione Lazio. Un prezioso contributo in quanto ci sono stati degli studenti che all'interno di una nicchia delle nostre grotte hanno portato alla luce dei reperti che testimoniano la presenza di insediamenti umani parecchie migliaia di anni avanti Cristo. Le grotte di Passena sono state frequentate dal Neolitico, quindi dalla fine del quinto millennio avanti Cristo. Anche in questo caso probabilmente con fini cultuali abbiamo trovato dei fecolari, degli oggetti, dei resti umani probabilmente depositati a fine di seppellimento. Ma i dati più importanti provengono dai livelli dell'età del bronzo, quindi datati tra il XVIII e il XVI secolo avanti Cristo. Si tratta di comunità composte a livello ipotetico da 100-150 individui che frequentavano queste grotte che avevano una grande rilevanza all'interno del territorio, le frequentavano anch'essi a fini rituali e soprattutto funerari. Abbiamo individuato sia qui che nelle grotte di Collepardo le aree dove venivano deposti i corpi dei defunti e soprattutto abbiamo individuato le aree dove si svolgevano parti, aspetti del rituale legato probabilmente al culto degli antenati. Per rinvenire tutto questo in quest'area con una certa ritualità, ovvero abbiamo chiazze di deposizione di semi e grano bruciato all'interno delle quali troviamo i vasi e questi oggetti di decoro personale testimoniano delle prime forme di ritualità legate al mondo inferoctonio dentro le grotte. È un'espressione, seppur molto semplice, però di un colto di questa fase che in termini tecnico chiamiamo età del bronzo, media età del bronzo e quindi un piccolo santuario lungo le aree di frequentazione agricole di queste comunità umane che frequentavano e abitavano tutta l'area centrale italiana. Non è l'unica grotta, ce ne sono altre e speriamo con il concorso anche di università straniere poter allargare la ricerca anche alle grotte di Collepardo e alle altre grotte di Montilepini come stiamo anche già facendo nell'area più interna della Valle della Niene dove ricerche pluriennali hanno dato medesimi importanti risultati.